Tocca Coppana Casa, sì Fasciolittorio.com, non è vero No, vorrei capire più che altro se si vede la... Se si vede dove sei in quel momento, nel momento in cui lo stai cercando Come roba, ma non penso, no? Non ti fa vedere niente Cioè, se scrivo Roma e cerco Non fa vedere, non è collegato a Google Maps, nel senso Cioè, non mi indica dove sto Ok, vai in incognito Se non c'hai agito... La posizione mia no Non fatti, non la fa vedere, guarda Non la dovrebbe far vedere Vabbè Sti cazzi Certo che piassa il coso da Kasumi Sen è brutto Cioè, Anna fa roba che sta a fare Kasumi Sen significa Ok, lo ammetto Ormai è finita la mia carriera Pat è bentornato Popolo italiano Grazie per le vostre sub Grazie davvero Riccardo, grazie per i dieci Manuel, Tave, Pat, bentornati e benvenuti Grazie Allora, ragazzi Vi faccio vedere come cercherei una casa Nella grande Roma Allora, io non sono un amante dell'acquisto di case Perché? Perché mi piace tantissimo perdere il 7% all'anno Dei soldi che mi tengo in banca a causa dell'inflazione È una roba che mi gasa tantissimo Mi eccita E quindi non voglio spenderli soldi Voglio solamente andare in affitto nel caso Vi faccio vedere al volo Come si cerca una casa a Roma Quando sei Il re, il re, il re, il re, il re, il re, il re E anche, ovviamente, il mega comunistone Allora Come se fa? Non ci sono mai stato su immobiliare.it Allora, ovviamente la cerchi a Roma Cioè, allora, io ho cercato immobiliare Roma E lui mi fa vedere questo Però c'è un errore Facciamo un po' di razzismo Beh, base, regà Razzismo territoriale Che è la prima cosa più importante da fare Quando tu cerchi una casa Roma non è questa Tutta questa non è Roma Questa non è Roma Questa non è Roma Questa è Lazio E Lazio è molto diverso Roma è letteralmente solo il centro Se tu non vivi in questa zona di Roma Mi dispiace Ma per me Puoi essere preso a cazzotti Da tre tipi della polizia Che sfortunatamente però Vengono ripresi Ma che andranno comunque in tribunale A dire che non hanno fatto niente Ok, benissimo Tuberanza ha detto Tuberanza, sì Prima mi facesse aver contratto Con tutte le emittenti televisive Per streamare qualsiasi roba Allora Andiamo in una zona intrigante Ma prima Filtro Filtro delle case Allora, mi piace una casa In affitto Che fastidio sta roba Regà, porco Dio Tutte le tipologie Ma che cazzo so Sfigato Allora Ovviamente la mia casa deve essere Un attico massimo Può essere un attico Posso metterne più di una? Ok Un attimo Sì, cioè un attimo Un attico Oh, parco Dio E mi hai rotto il cazzo Ogni volta che cambio Deve spawnare sto coso Un attico O una villa Così Andiamo sul sicuro Andiamo sul sicuro 128 annunci Ce li guardiamo Prezzo Oh, questo mi piace Da Allora, stai a Roma C'hai le spese Tutto Partirei Partirei bassino 3500 euro Al mese 3500 euro E ci spingiamo fino a 5500 euro Eh, ragazzi In basso Cioè Per quello che guadagno Potrei cercare 10.000 euro Al mese Non lo cerco Perché che cazzo Mi cerco 10.000 euro Al mese Ma che cazzo Ci faccio 10.000 euro Al mese È pochissimo Cioè È tantissimo Nel senso 3.000 euro Invece Per le finanze Basata Si può fa Allora Si va subito In zonarione Zonarione 3.500 euro Al mese Questa qua Se vede subito Attico A Campo dei Fiori Attenzione Campo dei Fiori Mi ci sono Umbriagato Con K Frenesi Una porta È la porta Della storia Che ha aperto Il portafoglio Davanti ai poliziotti E gli ha cascato Il preservativo E per scusarsi Quei poliziotti Gli ha detto Eh ma io sono Youtuber Che ancora Non capisco Quale fosse Il collegamento Onestamente Andiamo a vedere Sto Attico a Roma Allora Gli Attici a Roma Devi starci attento Perché so freddi So freddi Stai a scherzà Nel cuore Da città eterna Immerso Nell'enfasi De Roma È pronta Accoglie Chi avrà La fortuna Di abitarlo Amore mio Ma tu Mi devi Dare le foto Vedi Sette foto Cioè queste So hai foto Dell'attico Da 3.500 euro A Campo dei Fiori A Roma Ammazza che foto Grazie davvero Grazie per le tue foto Porco Dio Porco Ma che Ma come pensi Di voler vendere Una casa Attica Allora Via del flebiscito È buona Sempre centro Roma Precisa Ci potresti trovare Totti che cammina 5.000 euro al mese Vedo una manzarda E vedo del legno Mi hai già comprato Quindi Regà Nel caso Voi abbiate case Da mettere in affitto Con queste cose Sappiate che Nel caso Io posso venire in affitto Da voi A manzarda E legno E sono Ok fammi vedere Quanti metri quadrati 170 metri quadrati Allora consideriamo Che quella che io c'ho Alle canarie So 230 Però 230 Di cui No 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 So 260 Di cui 70 D'esterno Ok Quindi So 190 Questa è troppo grossa Sarebbe da mettere Come filtro Un'altra roba Io mi sono rotto il cazzo Anzi Una casa gigante È impossibile Da stagli appresso Però magari È fatta In maniera tale Qua ci cascherei Mille volte Allora Vediamo 35 foto Yoink Allora ragioniamola Salottino Salottino Pre stream Mi piace Qua ci metti Una telecamera Poi registrare Qua ci sta pure Il modem Ottimale Come roba Yoink Ok Piccolo Beh guarda Che aroma Da dove guardi Guardi Vedi storia E cartoline Però bello Mi piace questa vista Molto grea Qua te ci metti Capito Col bicchierino Del calice Del rosso E stai una crema Sta cosa Mi dà fastidio Che fanno le foto Due volte Nello stesso posto Me l'hai fotografato Già tre volte Alla quarta schippo Mi fai vedere La finestra sopra C'è posto sta Cucina moderna Non ricercata Bianca Minimalista Ma comunque Che fa il suo Mi piace Ma soprattutto Sta cucina Strizza un occhio Agli eterosessuali Perché Non c'ha Il forno La cucina Induzione Non c'ha Il cosa Induzione Ma c'ha Il cosa Col fuoco Vero Col fuoco Che lo vedi Capito Clicca Virtual tour Dove sta Virtual tour Ma fa Virtual tour Ma è un horror Ma che Ma ho fatto Parti mortuari Assistant No 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 Vai next Subito No 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 Via leva subito Che ci stanno Le foto porno Da qualche parte Allora Andiamo avanti Dove stavamo Oh cucina bella Però Open space Eh qui abbiamo un dramma Qui c'è un dramma L'open space Serve solamente una cosa Per registrare le puntate De Oh si In America Cioè se no Non c'ha senso No frate Io Io se devo cucinare Non mi posso poi Mettere in salone E sentire la puzza De quello che ho cucinato A prescindere se cucino bene o meno Mi dà fastidio Certo Certo Ci staranno De sicuro De prese d'aria Tali che te portano Via il profumo Però L'odore E c'ho ragione Che si Open space È una delle cazzate Più grosse Degli ultimi 15 anni Che è il motivo Per il quale L'open space È semplicemente Una roba Dove tu ti vuoi Dimostrare ricco Ma in realtà Nelle case dei ricchi L'open space Non viene usato Per cucinare Pezzi di figli di puttana C'è una cucina a parte Piccolina Dove cucinano L'open space Non ce cucinano mai Succhiatori di cazzi Ma va Allecate me le palle Allora Bella Mi piace Mi sa un po' De 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 horror Capito Indie De steam Da 9 euro e 99 C'è una macchina Che mi ricorda la formula 1 Se va next De casa Questo che cos'è rega Che cos'è sta roba Questa è una camera Mamma mia Fio bello Che brutta Ma sì ho capito Sì ma la manzarda Comincia a essere un po' pesante Cioè fino a quando Ci stanno due piani E qua la manzarda È il secondo piano Mi va bene Ma se è tutta Che la manzarda Mi potrebbe trigger Cioè frate Qua se uno pesa 300 kg Tocca la pancia È il soffitto No 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 Anche perché questo Sarebbe lo studio Da dove stream Perché qua Ci metteresti Il computer palese Mmm No ma anche il computer Ci metti Ma che ci metti No Claustrofobia No no E bagno mi piace Bagno Allora Una casa vecchia Romana Con degli elementi moderni Ma che non mi convince Non mi convince per niente Allora Se me voglio vedere Roma Se vediamo Cinque case A Roma Cinque case A Milano E cinque case A questo Guarda che corpo De scena Cinque case A Lugano Così Dal nulla Così Se torno a Roma Tiro una cortellata A Zano Se vengo a Milano Tiro una cortellata Letteralmente Vabbè Vabbè Mi faccio esplode Nei cosi De web Se vado a Lugano Vabbè ragazzi A Lugano Si Due corpi De schioppettate Armassevo E stiamo E stiamo tutti più felici Se va Bentornato All'Isboa A Napoli Pure a Napoli Oddio Napoli Napoli mi stuzzica Però eh Forse potremmo fare Non Milano E andare a Napoli Napoli Perché voglio vederlo Il lusso napoletano Mi manca Un po' Mamma mia Che casa di merda E poi non lo posso dire in stream Che casa di merda Perché sto Sto lancinando La casa in affitto Di una È una casa che non mi piace Mi piacciono certe cose Si vede che hanno fatto Dei lavori È vero che le case Vecchie a Roma Non le puoi toccare Più di tanto E le devi lasciare così Perché Ci hanno la loro bellezza Però no Non mi hai convinto Mi dispiace Non sei Non sei la casa Che fa per me Allora Andiamo in una zona Un po' più Dov'è che ci stanno Tutte queste Mazza Ma le case Che costano tanto Tutte qua Tutte sta zona Stanno Cioè Tipo un po' fuori Portuenze Giannico Lenze C'è stancazzo Madre mia Andiamo su una Che costa il giusto 3.900 euro Oh Eeeh Non per essere pignolo Ma tu hai appena deciso Il content della tua stream Rubandolo in tempo reale Ad un'altra streamer E pensa E pensa Io non ti voglio neanche Andare a fare il pignolo E pensa Che se adesso Uno entra Probabilmente Da Kasumi Senna Gli vanno a dire Stai rubando il content A Re E questa la cosa bella Capito E questa la cosa Veramente bella Antipatica Non ce voglio crede Sono 5 le sub Che tu hai giftato A me Davvero Grazie ancora Per il tuo aiuto Allora 13 foto Di questa qua Attico Via del Boschetto 27 Monti Roma Mazzà che brutte Comunque Brutte Un'altra manzarda Però attenzione Manzarda Solo piano di sopra Qua sali dalle scalette Molto interessante Altra roba importante Dell'affitto Arredata Arredata No Nelle grandi città Trovi sempre arredata Quando cerchi prezzi alti Arredata assolutamente Col cazzo Che prendo Non arredate Ahimè Non arredate Sono molto meglio Ma io so Palesemente Una di quelle persone Che se Se prendo una casa Non arredata Il mio salone sarebbe Una zona Con un divano al centro E una tv davanti La mia stanza Sarebbe letteralmente La postazione Basta E via dicendo Quindi Kasumi Se vuole guardare Ducasi con me Kasù Io ti voglio bene Ma te stavi a guardare 500 euro D'affitto Che per carità Stay humble Stay humble Veramente No 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 Magari Dopo Se ci vuole ritornare Lo potremmo Potremmo fare Una mossa Ecco Diciamo Dai E una mano Perché altro Faccio Faccio da consulente immobiliare Mi dice quello che vuole Io la aiuto a cercare Anche se non mi sembra Che sia tanto bravo Cioè ragazzi Ma qui Ma qui tu sali le scale Ci sta Azzazelle C'è sta Babba Duke Ma che Ma quant'è brutta Ma c'è Potrebbero rapire i bambini Ma pare Casa di Michael Jackson Ma che No no Ma lì sta Next Madre mia Ma c'è una casa decente Ma possibile Ma perché c'è tutte Queste case Perché solo case brutte C'è una casa un po' Moderna Non ci sta Senti Dai Fanculo Porco Dio Guarda che bisogna fare Nella vita Nella vita di tutti i giorni Dai 5.000 7.500 Dai 7.500 Al mese Oh Fammi vedere una casa un po' Moderna 50 foto C'hai il virtual tour Oh Bravo ragazzo Non hai idea di quanto siano spettacolari Te lo verrei a succhiare tutti i giorni a domicilio Boh Va bene Grazie Ambal Sono 10 le sub che tu mi hai giftato Grazie di vero cuore Giammo ma stasera o prima di andartene Ce la fai vedere sta casa Non è una casa Sono in degli studi Non è una casa Zio porco Hai messo attico a Roma Ah perché ho messo solo attici Eh vabbè ma sì Ma io voglio Cioè nel caso vorrei Sai perché? Non per fare il ricco Non per fare il bello Ma con sto lavoro Devi averci l'attico Cioè meno persone c'hai intorno E ovviamente meglio è Quindi se ti metti in mezzo a un palazzo È un disastro Quindi o c'hai la villa O c'hai una casetta tutta tua O c'hai un attico Ahimè è così Perché fai a mossa Una cantina Una cantina non ci voglio tornare onestamente Anche perché l'attico Magari fai attico a due piani Dove il secondo piano sta in stream E hai fatto Zano ad esempio Bravissimo intelligente ragazzo Scusa Ah quella alle canarie De casa La devo far vedere Sì Prima De trasferirmi Sì Cioè letteralmente Fra 17 giorni Ve la faccio vedere Nel caso Tanto Non ve l'ho mai fatta Non ve l'ho mai voluta far vedere Perché Non voglio far vedere Le case dove abito Nel caso Cioè è una roba Stupida Secondo me Stupida e sbagliata Proprio a livello di Se uno ti vuole rubare Tu gli stai dicendo Sì esatto Devi entrare da qui Per farmi Per incularmi Quindi magari sarebbe Da evitare Nico Supa Bentornati e benvenuti Allora Ok Ok Chi è che ha scelto Il divano giallo Chi ha scelto Di mettere un divano giallo Dentro questa casa Lo stiro Che brutto Salone doppio Vabbè Questo c'è il salone Questa sarà l'entrata Ok Questo è Ah Qui Grande corridoio Qui palesemente in bagno Probabilmente Sì Erma è verde Ah sì Te giuro Se te lo vedi verde Se tu lo vedi verde Sei un porco dio Di comunista Cioè Non ha senso Questa cosa Non è possibile Come fa a essere verde Ma che è Volevo farci La discussione Del vestito Se è blu o giallo Cioè Com'era Se è blu o nero Giallo e nero Allora Salone doppio Vabbè Qui si entra Ma certo che non si capisce In cazzo Dove sto entrando Non si vede niente Mamma mia A cucina A cucina Mamma Un suicidio Brutto Ok Attichino un po' Antonello Non ce la sai ancora Dove devi andare Buona fortuna So cosa si prova Ne ho cambiate Di case A Sì 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 17 giorni Non so ancora Che cazzo Mamma mia Ragazzi È bruttissima Ma che Ma stiamo a fare Davvero Ma in realtà Dai Ce può Stare Ma posso Mezzaccollare Come roba Però No 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 Vabbè che questo Sarà il bagnetto Quello stupido Fammi vedere il bagno Fammi vedere il secondo bagno È uno scherzo È in giucca Scusa Ando sta Ma Ah Ando sta No Erbidecce sta Eccolo No Aspetta Aspetta No 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 Questo è un altro bagno Ancora Perché uno dovrebbe leggere Prima in statistica Stiamo a fa un po' In cacciare A noi Sti cazzi Questo è un altro bagno D'una stanza D'una stanza Qui Probabilmente Te fa vedere Vedi questo Sono tutte stanze infinite Non ho visto manco qua Quanti metri quadrati so Mui ci sarà il bagno Quello di Cristo Probabilmente Eh Sono iniziate le foto Chi ha fatto le foto a sta cosa Chi ha deciso Di come fare le foto A questa A questa A questa casa Non me la stai vendendo Non me la stai vendendo Si Porco Dio Sembra veramente Non so Tiago Pinto Tiago Pinto Ha deciso E oggi farò io le foto A questa casa Ma com'è Ma non si capisce nulla Guarda che farzo Che questo Se vedeva gigantesco Che era piccolissimo Il bagno Invece te la fanno Un grande angolare Dal lato Maledetti Bravo ragazzo Bravo Questa è una bella foto Ma carina Però 7000 euro 7500 500 bombole A crema catalana Al mese Levate dal Cazzo Attico Attico a Piazza di Spagna Piazza di Spagna Una delle piazze Più Famose D'Italia Di Roma Stava letteralmente Su via del corso Questo potrebbe essere Questo potrebbe essere Goloso Quanto è? Metratura 173 metri quadrati È giusto 4 quadri Locale Ok Ma a collo Non è arredata Non è arredata Sapete che significa? Che sicuramente È figa dentro Per qualche motivo Ok Te dà tutto Sulla Sulla città Ma Questa è Piazza di Spagna Qua c'è Bevonertelli Mortacci Loro Qua c'è Stanno Scalinate Da dove c'è Sceso Rovazzi Per far Prima del film Cucina carina Vabbè È giusto Questa è proprio Una cucina romana Questa è proprio La cucina base Questo è lo studio palese Con qui Che ti entra la luce Qui metterei la Probabilmente La metterei Così la La scrivania Qua c'hai tutte prese Tutte prese Bello Però no In realtà La scrivania di qua No No Boh Forse sì È che poi c'hai la luce Che ti entra dall'interno Ma tanto streammo De sera Cazzo me ne frega Bello Carino Simpatico Poi qua sali sopra Bello Il terrazzino Dove te scopri le puttane Ottimo Non male Sempre piazza De Spagna Potenzialmente Un altro studio Ci stanno Vedo una marea De caloriferi Bravissimi Intelligenti Che so fredde Ste case E il primo bagno Yoink E questo Ma che è La cosa per non fare Entrare la luce Del 15-18 Questa la usava Mussolini Probabilmente In casa sua Ma è vecchissima Mettici un'altra cosa Qui lo sai che ce fai Qua ce fai Sala cinema Qua ce metti Na tv qua Boom Che levita il cazzo Sto divano brutto Ce metti In ber divano di Cristo E ce fai Mini sala cinema E attenzione Perché vedo lei No non è vero Mi ero flashato Che questa era Una mezza Iacuzzi Invece Mamma mia Questo brutto Ma qua io non c'entro Cioè qui un uomo Di un metro e ottanta Non c'entra Cioè gotta in chat Che è lungo Due metri Non c'entra Qua dentro Dai capocciate Metre e settantanove Vabbè Tanto anche un metro e settantanove Qui non c'entrerebbe Non è che Se ti metti a fare I belli Però è bella Questa è bella Questi gli interni Sono belli Secondo me Cioè può essere Lavorata questa Il problema è che Sembra il terrazzino Della grande bellezza No Però quella la puoi trovare Potenzialmente come casa Perché le so che L'affittano A 21.000 euro Al notte Ah sì E io qua Te devo fare una varrata Tu mi spieghi Che cos'è sta stanza Cioè scusa C'è un muro Che letteralmente Elimina parte Della stanza Cioè qui che cosa ci fai Ci fai un nascondiglio Tipo È per i cadaveri Sta roba Frate Qua ci metti il letto Così Cioè fai finta Di ricreare gli hotel Quelli là In Cina Che sembrano Delle capsule Praticamente Qui vabbè Un normale Un wallpaper Di visage E questa mi sa All'entrata All'entrata Un po' ansiosa Un po' ansiosa Però bella Mi piace che c'è il parquet Anche se Ho vissuto un anno In una casa Con un parquet E Sfortunatamente Sono costretto A lasciare 3.000 euro Di caparra Cioè Non meri più La caparra Perché il parquet Gliel'ho sfonnato Gliel'ho distrutto Gliel'ho annichilito Gliel'ho letteralmente Aperto in due Quindi Non è che mi piace tanto Si non Sta casa stava Su real time Yoink Allora raga Devo essere onesto Probabilmente Se vado a levare Se vado a levare Attico Me trova Roba molto più ciotta Me va a trovare Tutte le tipologie Guarda tutte le tipologie Come trova Molta più robetta Yoink Però Scusate Eccola Me l'hai venduta Questa Ecco Questa È casa mia a Roma Mamma mia Guarda Il legno Tutti i libri Bella Bella Fammi vedere il salone Un attimo Ok Foto Vibe Bella Piena di luce Qua ci fai una sorta De mezza Roba Piena De Piena di vinili Piena di dischetti Piena di Libri E cose Bello Il salone Non capisco perché C'è sta una scala Ma nel caso Se ti puoi lanciare De sotto Da finestra E ti puoi ammazzare Se mi fai vedere Un'altra foto Del salone Sono sfortunatamente Costretta a ucciderti Mi fai vedere Sopra del salone C'è sta Vabbè Molto Molto Questo è il salone Ma l'ho visto Già nelle quattro foto Prima My man Sì è il salone Visto da un'altra Prospettiva Visto da in alto A sinistra L'ho capito È il salone È il salone Lo riconosco Lo riconosco dal divano È il salone Sì sì Ma questo è il fuori Questo probabilmente È il fuori Che vedi dal salone Che ci sta Sala da pranzo Qui vabbè Palesemente La sala da pranzo Che ha utilizzato Silvio Berlusconi Quando ha avuto Delle conversazioni Con Belen Rodriguez Me la posso accollare O vecchiotta eh Allora Qui già mi piace di più Questa mezza stanza Eh beh Sicuramente Un bel salone Bisogna dire Ok Oh stanza Ma con piano di sopra Stra Ma che cazzo serve Il piano di sopra A stanza Con piano di sopra Con il bagno Yonkers bathroom Yonkers bathroom Good bathroom Bear bathroom Questo Mi piace Pure che dà Sua finestra Sai perché Cose belle Sai perché È bello I case che costano A Roma Perché pare che Non stai a Roma Guarda qua Qua ti affacci Stai boh Stai A Stai tipo A A villa Villa rotonda Fuori da Toscana Con vicino Pitigliano Praticamente Cioè Non pare Roma Lì per lì Questo Non so che cosa sia Comunque fanno le foto Con i piedi Le foto con i piedi Veramente A cucina Ma perché Ma perché Ma regà Cioè Se vi faccio vedere I canari Che pico 7500 euro Ti metti a piangere Cioè Con 7500 euro Ti prendi la casa Del sindaco Vai dal sindaco Dei canari E fai La coglione Pum Pizzone in faccia E ti ci metti In ginocchio O cacci De casa E ti ci metti A dormire No ma te giuro Il salone merita Le 8 foto Per capire la planimetria Per immergerti Nell'experience Ma vaffanculo Va te ha planimetria Per immergerti Nell'experience Ma che cazzo È quest'altro Sì È il ristorante stellato Ma le capelle Però c'è Però c'è Il colosseo Te senti Romano dentro Qua te Te l'arzi Te svegli E fai così Da facci Vedi Francesco Totti Vedi Daniele De Rossi Date gli altri Un altro Hanno decontratto Eh beh Beh oddio Beh ci sta Eh beh Anche perché sta Penso in piazza Del colosseo Quindi Giustamente Basta Boh Non lo so Non mi ha convinto Devo essere Non mi ha propriamente convinto Sì Ma posso Ma ragà Voi ci scherzate Questa casa Sono 6500 euro al mese 6500 euro al mese Questa casa Erano 3500 Per la zona Sono 3.000 euro in più Vabbè ma è ovvio Cioè Niente Niente De non scontata Sai che si può affittare La casa di Otis Di Sex Education Ma che cazzo stai a dire Cauzione 19500 euro Eh Il vantaggio Che l'aria è pulita Le cose funzionano E non c'è paesaggio Migliore delle montagne Eh lo so So d'accordo Signori Si va a vedere Oh Giammo Veneto niente Ci sono delle belle scelte Si va a vedere Il lusso Si va a vedere Il lusso Napoletano Il lusso Napoletano Adesso si va a vedere Allora Fatemi mettere Un attimino Di musica Di Fammi mettere Du jazz Classic Ok Ragazzi Andiamo a vedere Due cose Nella grande Napoli Nella città Del calore Dell'aria fritta Come cazzo si vede Porco Dio Allora Tocca tornandietro Enzdrongo Allora Voglio cercare Napoli Case a Napoli Però qua le cerchiamo Più intelligenti Non le cerchiamo Da imbecilli Le cerchiamo Da persone intelligenti Si va a Napoli Tutto il comune Allora Il comune di Napoli Da ricchi Qual è il comune De Napoli Bono Un comune Che spigne Ervomero Va bene Allora Napoli Napoli Vomero Come cazzo avevo fatto Dovrò scriverlo Vomero Napoli Eccolo Vomero Napoli Un annuncio Un annuncio Matico Via privata Ma cagate il cazzo Dove Vomero Napoli 200 È lei Così Buttata di fuori Subito 50 foto Bella Ma Ma questa è palesemente La foto del wallpaper Se cerchi Napoli Se cerchi Napoli Napoli su Google Immagini La prima foto che trovi È questa Precisa È questa Da sta zona Proprio precisa Ok Questa mi sembra Proprio presa Da Google Immagini Invece Bella Mi piace l'esterno È inutile Che mi metti La Il cielo Rosa Solamente Per provare A comprarmi Ok È molto bella Napoli È molto bella Io però vivo Dentro la casa Non vivo Nell'esterno Dell'attico È veramente Una bella città Ma si vede Poi Lo sappiamo Moltissimo Che bello scorcio Che sei riuscito Ad andare a prendere Qui con le due nuvole Che vanno Comunque a coprire A coprire il tutto È molto bello L'esterno Che bel tavolino Molto Un tavolino Molto bello esterno E che bella Radura Pazzesca Io vivo dentro la casa Vivrei dentro la casa È veramente Ti giuro È una città Che ti ripeto È molto bella Sono stato anche qui Io ho guardato Non mi ricordo com'è La cosa dell'uovo Non mi ricordo Come si chiama Ogni volta Che bella Questa però Questa però Me l'hai già fatta vedere Qui Qua mi un pochino Ma che spettacolo Un paio di nanni Sì sì L'uovo Sì l'uovo Wow Ti giuro Io vorrei vedere Il dentro della casa Frate Io ti giuro Vorrei vedere Piero Ferrari Piero Ferrari Io voglio vedere Il dentro della casa Oh grazie porco Dio Piero Ferrari Sei gentilissimo Allora A cucina Se hai fortuna Puoi vedere Cucina grossa Ok Cucina grossa Queste entri La prima cosa che fai È le levi E gli dai fuoco Gli dai fuoco E le butti Nel verde Che hai accanto Alla casa Cioè Per favore no Ma chi è Chi è Chi è Quello che ha detto Che ha pensato Anche solo Che potessero stare bene Queste robe Cristo di Dio Però la cucina è bella Doppia cosa Doppia finestra Un po' Proprio incastonata Mi sembra pure Un po' piccolina Oddio un po' sus Sta cucina eh Poi sì Cioè qui L'odore rimane E ci stanno solamente Due cose Dove da una Uscirà probabilmente Il risucchiatore di aria Anche però Se hai due finestre Quindi puoi aprire La finestra E far uscire da lì L'odore di fritto Misto napoletano Che ci sta E poi comunque Un pochino incastonata Tale che poi L'odore non si propaga In mezzo alla casa E Piero Ferrari Io credo che io Deba sfortunatamente Iniziare ad insultarti Ti giuro sulla madonna Non l'hai fatto di nuovo Piero Ferrari Non vedrò mai Quest'immagine Perché non giro Con un drone Non ha senso Boh Io non sto Non ti giuro Piero Ferrari Mi sta Mi sta mettendo In difficoltà Nel guardare le case Cioè Ma che c'è qui Ma qua c'è Sta una sbuciona Ma che Ma la sbuciona Che sta buttata A monnezza C'è sta Ragazzi Sono le foto Della cucina Un'altra volta Oh L'ingresso Porco dio Bello La cucina Piero Non ci vivo in cucina Non dormo in cucina Non streamo in cucina Ma che cazzo Mi hai rotto Ti giuro Se dietro Se dietro C'è una foto Della cucina Impazzisco Ok Stanze Non è arredata Il che è terribile Come Come roba Però La cucina La cucina Piero La cucina È una bellissima cucina Devo essere onesto La cucina vista Da un'altra ottica È molto bella Il bagno Il bagno di quale stanza Dov'è Mi fai capire qualcosa Piero Sono finite le foto Certo Certo Piero Va bene Senti Piero Io non voglio Nemmeno essere cattivo Ma se Se erutta Il Vesuvio Sì Qui le ceneri Arrivano Entrano tutte Proprio Precisamente Un attico Un sogno Per pochissimi Referenziati Sede di calciatori Illuminati imprenditori Eccellenti professionisti Allora io non ci posso stare Ah sì Andiamo a posillippo Dai Ho capito Bene Bene Vai C'ha lo stesso taglio Di fotografia Di Piero No raga è Piero Di nuovo Non mi dico è Piero No raga non è Piero Ma una casetta A Lago Negro Per il meme Non la vedi No perché è una bellissima Cittadina Però non mi Non mi ispira Tato Tato Giamma Bentornati Benvenuti Bentornati a tutti Posillipo Posillippo Beh Raga Gengar Gengar Giarados Ok Che spettacolare Che bellissima visione Del Napoli Fammi vedere due interni Junkers È una bellissima visione Diciamo che la vedevo già da qui Ma grazie per avermi fatto capire un pochino di più da dove si vede Ok Molto Allora Io La mia casa dei sogni è Legno Minimalista ma non troppo Vetro Tanto vetro Quindi deve essere piena di luce Di luce E basta in realtà E c'è qualcosa che mi piace Grazie al cazzo Giustamente Ok Questa mi piace Certo Il salo Il divano qua Capisco perché sta lì il divano Ma sì c'è È proprio un divano per guardar fuori Vabbè c'è proprio il senso Vedi Invece dalla tv Guardi effettivamente la natura Bella Bella cucina Good kitchen Good kitchen Sotepis International Reality Good kitchen Eee Bel bagno Bel bagno Ma attenzione Attenzione Lavandino della Melagodo House L'ho intasato una volta Posso intasarlo di nuovo Caparra infinita per il parquet Vabbè vabbè Però me la potrei Me la potrei accollare Ok Quindi Quindi è tipo una sorta di open space Dove ci sta Dove puoi arrivare direttamente da tutto Mi fa vedere due stanze Al volo Eee Ok Ah Poi qui si divide C'è tutta la sfilza di stanze Un po' in stile hotel Che non mi piace Però vabbè Prima stanza Ok Stanze un po' alla bambino Stanze di quelli che si guardano Mickey Mouse Quello in 3D che fa Ah ah Il giochino Porco Dio Giammo fidati di me devi mettere la Brianza che sono i posti che piacciono a te Metti Montevecchia o Sirtori fidati se no ti dono 20 sub Bizzù Allora non le metto Cioè Se tu non mi puoi Dizi Mettile O se no ti dono 20 sub Allora non le metto E mi dono i 20 sub Cioè Proprio Teoricamente Come logica è sballata Ok Frate le stanze mi piacciono Ok Esterno Bello Un po' Ok Passa intorno a tutto Il sopra ti fa vedere anche Questa è sopra il palazzo però Mica è solo tuo Certo le stanze non si capiscono bene Quante so Come so Tu lo dovrebbe di qua nelle statistiche Strepitoso appartamento Super panoramico 250 metri quadri 5 più locali 3 più bagni Caparra Spese di condominio 3 più 8 e mezzo Cauzione non indicata Yonkers Questa carina eh Questa mica mi dispiace Prova a vedere case sul lago di Como Lago di Garda O Valpolicella Porca madonna Voglio vedere case dove cazzo mi pare a me Dentifricio ma con la O al posto della E Grazie per il subgiftato Bella Questa mi piace Allora l'avevamo trovata A Napoli l'abbiamo trovata A Napoli mi pierei questa Atti con via Orazio Apposi il lippo Napoli Non male Se ho ragione te le sono comunque Mi stai simpatico Dovrei già averle donate Un paio di sub da te Grazie A Como sono illegali Questa è la casa di Jelinski Ho riconoscito il terrazzo Vabbè Ehm Andiamo a vedere le case a Como Ma si ragazzi a Como Te credo ma a Como c'è sta cosa A Como c'è sta C'è sta Ehm Ehm Nespresso What else Com'è Come sia John Clinton George Clooney E non è neanche la persona più famosa Perché lì vicino c'è sta Lollo lacustre Just saying Azi